Un'artista molto amata e che in molti avrebbero voluto trionfasse alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, insomma la 2023. È Giorgia che a maggio è tornata con una nuova canzone, un inedito intitolato Senza Confine, il terzo singolo estratto dal nuovo album Blu. Era lo scorso febbraio infatti quando Giorgia aveva fatto ritorno sul palco dell'Ariston con il brano Parole dette male. Di recente invece la cantautrice ha lanciato appunto un nuovo singolo, pronto a conquistare un posto tra i tormentoni di quest'estate. La sua del resto è una voce che ha fatto la storia della musica italiana e non soltanto. Dal debutto con e poi ai grandi successi che l'hanno resa una delle artiste più amate e apprezzate di sempre, nel corso degli anni Giorgia ha saputo emozionare il pubblico sperimentando e mescolando generi differenti. Tra le sue canzoni più iconiche ci sono sicuramente Come saprei, Girasole, Di sole d'azzurro, Gocce di memoria, Il giorno migliore e Oro nero. E proprio a questa canzone andiamo ora con i ricordi, prima in parole e poi in musica. Oro nero dunque è un brano scritto da Emanuele Lo, vero nome di Emanuele Loiacono, cantautore, musicista, ballerino e coreografo italiano, ma anche compagno di vita di Giorgia. La canzone è molto bella e lei ha una voce naturalmente strepitosa. Il significato è un racconto che parte quasi a bassa voce per poi esplodere nella parte finale. È una denuncia per tutti quelli che giudicano dall'esterno, quelli che probabilmente vedono una donna che è cambiata e non si accorgono né si chiedono il perché. Dicono di me che non sono più com'ero, infatti canta Giorgia. Parlano e giudicano la donna senza cuore che vorrebbe solo trovare amore e parlano di me una donna facile con le difficoltà di un giorno semplice, canta ancora l'artista. Oro nero insomma vuole denunciare l'abuso del giudizio. L'oro nero nel suo significato primario è naturalmente il petrolio, considerato a lungo e anche a livello culturale come un prodotto di valore preziosissimo, invece in questo brano diventa ciò che è davvero. L'oro nero sono gli altri, sono un materiale che inquina, un veleno che trasforma in cose brutte ciò che poi tocca, con cui viene in contatto. E questo perché spesso è appunto riferito agli altri che giudicano, mentre chi è giudicato è in un momento fragile e forse compie anche delle azioni che gli altri non approvano oppure che non si aspettano che sarebbero state compiute. Gli altri non ascoltano, in definitiva non cercano di comprenderti, canta Giorgia, non provano empatia e neanche a mettersi nei panni degli altri. Lei appunto dice la gente giudica, non sa neanche lei perché, parlano di me che mi amo davvero ma una carezza sul mio viso la vorrei sul serio. Poi ancora aggiunge, dicono di me, non sono più com'ero e questa sono io, io non lo voglio l'oro nero. Ecco allora che dopo aver ricordato il senso di questa canzone siamo pronti anche a riascoltarne i suoni, le melodie e anche la voce di Giorgia. Naturalmente sempre piacevolissima colonna sonora qui a non solo suoni. Buon ascolto!